ciao quello che sto per presentarvi ora non è solamente un bel prodotto attrezzatura fatta bene che tra l'altro ha vinto anche un premio design nel paese dove è stato realizzato è un prodotto veramente interessante che già da anni proponiamo qualcosa di simile ma questo è veramente nuovo pratico da trasportare è comodo e leggero insomma è un prodotto innovativo è un generatore di fumo a cosa serve serve in quelle situazioni dove c'è la necessità di andare a tracciare di andare individuare il percorso che una tubazione dovesse fare pensiamo per esempio se dobbiamo cercare l'origine di un allacciamento di un tubo di scarico noi partiamo dal pozzetto a valle immettiamo grazie a questo generatore del fumo dentro la tubazione e vediamo da dove esce quindi identifichiamo eventuali rotture eventuali perdite o proprio lo stesso percorso che il tubo va a fare funziona con alimentazione elettrica quindi si attacca alla rete elettrica 220 volt di fatto una caldaia che scalda un fluido particolare che va utilizzato appositamente per la generazione del fumo fluido che viene inserito in questo serbatoio posto all'esterno del generatore poi la regolazione il funzionamento è molto semplice manovelle di accensione e di regolazione della velocità della ventola di emissione di emissione anzi di velocità con cui il fumo viene sparato fuori dalla macchina e poi anche regolazione del dosaggio di consumo del fluido in modo da regolare la densità dello stesso fumo quindi operazioni che si possono fare dal generatore direttamente tramite queste due manovelle c'è anche un display che indica lo stato di riscaldamento e di raffreddamento in fase di spengimento della macchina della caldaietta ma si può fare anche tramite questo comodo radiocomando quindi se io posiziono il generatore al piano terra in una cantina quindi lontano da dove mi trovo ad operare a controllare il percorso del fumo cioè a controllare quello che sto cercando no io se sono per esempio al secondo al terzo al quinto piano tramite radiocomando posso velocemente e direttamente interagire quindi accendere accelerare o diminuire o spegnere appunto la macchina che genera il fumo andiamo a vederla nel dettaglio innanzitutto vi dicevo è fatto molto bene vedete un design molto elegante ha queste due ruote che a modi trolley mi consentono di trasportarlo facilmente ora è appoggiato qui sopra ma poi lo appoggeremo no qua ci sono circa un paio di metri di cavo di alimentazione c'è questa finta presa che mi consente di fissare la presa quando il generatore non è in uso quindi non disturba non penzola non dà fastidio diciamo dall'altra parte lo giriamo vediamo che c'è il serbatoio di contenimento del fluido e questa sorta di arrotolatore dove sono posizionati circa sette metri e mezzo di tubo da 40 mm che è il tubo di mandata del fumo che una volta che la macchina non è più in uso viene avvolto intorno al serbatoio e alla caldaia viene chiuso da queste cingue quindi il tutto è molto semplice da trasportare occupa poco spazio quindi una macchina fatta veramente bene pensate progettata e realizzata per essere utilizzata continuamente